Una domanda che ultimamente non mi fa dormire la notte è questa, perché Dio ha riservato gli animalisti a questi tempi, ok? Ogni epoca storica ha avuto le sue sfighe, ok? L'anno mille i barbari, il 500 i lanzi chenecchi, non erano meglio? Non hanno rotto meno il cazzo? Io rivoglio i lanzi chenecchi, ok? Rivoglio i lanzi chenecchi! Quando parlo degli animalisti, parlo dei fanatici animalisti, gente che si farebbe 50 chilometri a piedi, sotto il sole, senza acqua, in un corteo, prof i nicotteri del Guatemala, ma se ti incontra sull'ascensore si affretta a chiuderlo, ok? Di recente il Papa ha detto, amate troppo gli animali e siete indifferenti alle persone. Amici animalisti, se io e il Papa siamo d'accordo su una cosa, vuol dire che dovete essere molto, ma molto stronzi, ok? Ok? Animalisti fanatici, gente che vi viene davanti alla faccia e ha il coraggio di dirvi delle assurdità, tipo, noi abbiamo un sacco di cose da imparare dagli animali, tipo, tipo, non mi risulta che un formichiere abbia dipinto la cappella sistina. Per caso un procione ha scritto guerra e pace? Gli struzzi sono andati sulla luna, gli struzzi, no, e allora animalista non me lo devi rompere il cazzo, ok? Ma, 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 odiare gli animalisti non vuol dire odiare gli animali, io per esempio amo gli animali. ecco perché ora vorrei condividere con voi due fatti poco noti ma veri sugli animali. Primo fatto, le aragoste comunicano tra di loro pisciandosi addosso. Fortunate aragoste, fortunate, per l'uomo è un extra che devi pagare caro. Secondo fatto, secondo fatto il maschio dell'ape, il maschio dell'ape quando ejacula esplode. Cioè il corpo viene disintegrato ma il cazzo rimane incastrato nella vagina della femmina. Unico signori, unico caso in natura di uno che muore e non lascia un vuoto incolmabile. Ma, ma, per esempio parlando di animali parliamo di donne. Non lo dico io ma Semonide, un autore greco che scrisse una celebre satira in cui divide le donne in base a pregi e difetti e paragona queste categorie a delle specie animali. Una su tutte, secondo Semonide, esiste la donna cagna, ok? Chi era la donna cagna? E' la donna impicciona, quella che deve mettere sempre il muso, il suo naso negli affari degli altri. Stare con una donna cagna però ha anche i suoi vantaggi. Per esempio, se lei si lamenta perché non soddisfi i suoi bisogni, ti basta accompagnarla alla toilette. Oggettivamente te la cavi con poco. Però io osservando la nostra società mi vanto di aver individuato una nuova specie di donna animale. La donna pesce rosso. Qualcuno di voi ha mai osservato dei pesci rossi in un acquario? Qualcuno di voi ha un acquario? Avete mai osservato? L'ho fatto io per voi. Ho notato che il pesce rosso passa la maggior parte del suo tempo con un lungo stronzo attaccato dietro il culo. A volte lunghi anche due o tre volte la lunghezza del pesce stesso. Vedeste voi con quanta nonchalance se la portano dietro, neanche fosse una sciarpina di seta, ok? Io ho provato a darmi una spiegazione. Ho detto il pesce rosso, non lo so, ha una memoria a breve termine di cinque secondi, ok? Evidentemente lui inizia a farla, dimentica cosa stava facendo e riparte, tranquillo, la vita gli sorride, no? Ma, stando a quello che ho appena detto, chi è la donna pesce rosso? È lui, è l'uomo a fare di una donna una donna pesce rosso, lui lo stronzo che ci sta insieme. Generalmente uno di quei tipi fatti con lo stampino che non hanno idee proprie ma sono sempre pronti a seguire ogni moda e ogni tendenza. Se domani diventasse di moda, che so, andare agli apericena con una cocorita infilata nel culo, lo vedremmo entrare con fierezza nei pub accompagnato da sospetti cinguetti. Uno di quelli che sogna il danaro facile e passa il suo tempo pensando a start-up che hanno le stesse aspettative di successo di un lottatore di sumo sciancato alla maratona di New York. Signori degli stronzi, fatti e finiti, ecco la verità. Voi starete pensando, ma la tua invidia? Certo, certo che invidia, per forza che invidia, perché loro saranno anche gradevoli come una gastrite, però sono costantemente circondati da belle ragazze ed è evidente che con questo fisico non posso dire la stessa cosa. A titolo di semplificazione, se è vero che il simile attira il proprio simile, io ho speranze di scopare solo con una grondaglia, ok?